Si riorganizza l'Udc nel territorio brinisino con un nuovo coordinatore provinciale nominato il senatore Pietro Iullaro che avrà il compito di riorganizzare il partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali a partire dal tema delle provinciali previste per il prossimo anno ma anche le europee e in prospettiva le regionali. C'è un'ottima classe dirigente già presente con un rafforzamento di persone che hanno svolto ruoli in passato e che si accingono a svolgere il ruolo politico nel futuro. Chiaramente tutto questo in collaborazione con chi c'era già e con chi vuole aprire per creare un Udc forte in Puglia in vista delle amministrative importanti che abbiamo, in vista delle regionali che è un appuntamento importantissimo. Il Brindisi perché? Perché Brindisi subito dopo Foggia è il capoluogo di provincia dove è stato appannaggio da pochi mesi nel centro-destra per cui abbiamo anche un interesse essendo l'Udc collocato precisamente nell'alveo del centro-destra è evidente che si parte da Brindisi per poi, così come avverrà per Taranto, Lecce, Bari e Bat. L'obiettivo è questo, quello di far ricrescere i cristiani popolari all'interno dell'area di centro-destra in questa provincia e in questa regione. Un impegno che abbiamo assunto io, Cassano e Chiarelli soprattutto, con i quali sono legato da una profonda amicizia e da una militanza lunga insieme. Grazie a tutti.